Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo il laboratorio di scienze, ovvero il vulcano. L'occorrente di oggi è aceto, bicarbonato, detersivo per piatti, pasta d'as, colori a tempera, pennelli, bottiglietta e imbutto. Ho steso la pasta d'as e l'ho appoggiata alla bottiglietta, dandogli la forma di un vulcano. Ecco il vulcano! Poi l'ho colorato con le tempe e l'ho lasciato asciugare per diverse ore. Ho messo nel vulcano il bicarbonato e poi ho aggiunto la miscela di aceto e detersivo. Dopo qualche secondo ecco la evoluzione del vulcano. Ho messo nel via! Ti è piaciuto l'esperimento? Provaci anche tu! Ci vediamo al prossimo video! Per non dimenticarmi iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere un po' di notifiche, mettete un bel mi piace, commentate, condividete e seguici!